Seppur la Commissione di Accesso abbia chiesto l'ulteriore proroga di tre mesi per verificare eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata, il Comune di Foggia può pensare alle prossime elezioni amministrative. A meno che infatti lo scioglimento per mafia non intervenga prima dell'ulteriore scadenza prevista per il prossimo 9 settembre, la cittadinanza potrà andare alle urne, come previsto dalla legge numero 58 del 3 maggio 2021, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021, che stabilisce che sono inserite nel turno tra il 15 settembre e il 15 ottobre anche le elezioni amministrative nei Comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dal mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021. Al momento dunque questa è la condizione e l'ipotesi valida per la città di Foggia, dove il prefetto Raffaele Grassi, con il suo ultimo atto amministrativo prima del trasferimento, ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale a seguito delle dimissioni del primo cittadino. Qualora la Commissione avanzi la richiesta di scioglimento per infiltrazioni mafiose con il nuovo Consiglio Comunale già eletto, in questo caso interverrebbe un secondo scioglimento, ma solo nel caso in cui a sedere a Palazzo di Città ci siano consiglieri dichiarati incandidabili dalla relazione della Commissione stessa. In caso contrario, al nuovo Sindaco potrebbero essere impartite esclusivamente delle prescrizioni per una cosiddetta bonifica dell'attività amministrativa. Grazie.